Eccoci, undicesimo appuntamento, la rana nel pozzo, la prima puntata del 2019, un augurio a tutti voi che ci seguite, ospite oggi il consigliere comunale ed ex sindaco della nostra città, Simone Petrangeli. Come sta Petrangeli? Io sto bene, egregio direttore se me lo permette le vorrei poter dare del tu. Glielo concediamo? Come no, come vuole. Allora ti ringrazio soprattutto dell'invito e ti ringrazio anche per il lavoro egregio che fai per il territorio con la tua testata. Grazie, grazie mille a nome di tutti. A te e al tuo staff naturalmente. Certamente, esteso a tutta la redazione sa che noi i complimenti ce li prendiamo, ma diciamo sempre che non facciamo sconti per questo. Oh no, assolutamente, ma io non li chiedo gli sconti. Parlo del suo staff perché i suoi collaboratori fanno molto più di lei, insomma, lo sappiamo. Va bene, va bene, ci prendiamo anche questo, allora prenderò nota nelle domande che le farò. Benissimo, allora partiamo subito così, ma come si fa a perdere per 99 voti? E perché, quando è successo? Questo è successo all'ultima elezione? Sì, evidentemente succede. È un po' come perdere una finale dei mondiali ai calci di rigore. Pensavo mi dicesse come perdere una finale di Champions League, visto che, insomma, sono preparato su questo. Ma a parte gli scherzi... Però non è mai successo ai rigori, quindi non sarebbe stato un esempio calzante. Sì, sì, è successo anche ai rigori. Anche ai rigori, sì. Come no, come no. Ah beh, è vero con il Milan. Esattamente, esattamente. Ricordo male. Parliamo di lei, però, e volevo sapere quante volte ci hai ripensato a quella notte dello scrutinio, insomma. Ci ho pensato molto spesso, però la politica come la vita è così, quindi bisogna prendere il buono e il meno buono che viene, cercando soprattutto di imparare dalle sconfitte. E quindi questo è il messaggio che mi ha dato quell'esperienza di quella notte e, più in generale, dell'esito che è stato abbastanza beffardo delle elezioni. Quindi bisogna imparare dagli errori, cercando di non farli nel futuro. Quale errore principale ha debito a quella sconfitta? Gli errori sono quelli di non aver curato magari alcuni particolari che ci avrebbero permesso di prendere quel centinaio di voti in più e quindi di poter riconfermarci alla guida della città. C'è stato forse un deficit, soprattutto nell'ultimo periodo di comunicazione con la cittadinanza. Viviamo un momento difficile, noi non dobbiamo dimenticare che in quel turno di ballottaggio tutte le coalizioni di centrosinistra nella nostra regione hanno perso, è certo che a Cerveteri e successivamente a Fiumicino. Quindi, insomma, abbiamo anche vissuto un'onda assolutamente contraria alle forze democratiche, progressiste e più in generale di centrosinistra. Ma poi si volta pagina. Assolutamente sì, per fortuna. Veniamo proprio ad oggi, nel vero senso della parola, c'è stata questa notizia della caldaglia rotta alla scuola media Ricci, dove gli studenti sono stati costretti per due giorni a saltare le elezioni. Sì. Cosa ne pensa? Speriamo che siano solamente due giorni. È una cosa che non è mai successa, veramente incredibile, perché io ho parlato con la Preside, è da aprile che il Comune di Rieri ha conoscenza di questi problemi al sistema di riscaldamento, ci sono state due settimane durante le festività natalizie per risolvere il problema e non è stato fatto. È veramente una cosa vergognosa che si blocchi un pubblico servizio per l'inefficienza e l'incapacità di un'amministrazione. Sotto il vostro mandato non mi pare che ci siano stati problemi di questo tipo? No, non è mai successo né a noi né ad altre amministrazioni, quindi insomma è davvero una delle gaff che sta facendo l'amministrazione comunale, insomma insieme ad altre, penso, non lo so, al fatto che è saltata una manifestazione sportiva di carattere regionale perché il Comune non ha fatto il lavoro al pistino dello stadio Rao Guidubaldi, insomma ce ne sono tante, iniziano ad essere davvero tante nonostante siano passati solamente un anno e mezzo dall'insediamento della nuova amministrazione. Cicchetti ci ha detto nell'ultima puntata del 2018 che lui calcola come un anno, forse anche meno, perché ha speso il restante tempo a guardarsi intorno, a vedere gli errori che ha fatto la Giunta Petrangeli. Io posso rispondere che noi ci abbiamo messo 5 anni, forse non sono neanche bastati 5 anni per guardare agli errori di chi ci ha preceduto, naturalmente è propaganda, Cicchetti è un maestro nella propaganda e quindi bisogna essere consapevoli di questo, ma poi la realtà è sempre più forte della propaganda e quindi i cittadini si stanno rendendo conto di quanto sia incapace questa amministrazione. Tornando alle scuole, credo che lei abbia perso anche per il tam tam che si fece sulla sicurezza scuole, ricordo anche un servizio, più servizi delle Iene di Nadia Toffache, alla quale mando un saluto di pronta guarigione. Un augurio di pronta guarigione. Che cosa ne pensa di questo? La sicurezza nelle scuole è un tema importantissimo, prioritario e molto delicato, purtroppo siccome il terremoto c'è stato a un lasso di tempo breve prima delle elezioni, purtroppo questa vicenda è stata pesantemente strumentalizzata e per alcuni un'emergenza reale è diventata un'emergenza elettorale, perché poi molti il giorno dopo le elezioni hanno dimenticato quali fossero i problemi e quali sono ancora i problemi dei nostri istituti scolastici. La cosa grave, al di là della propaganda, al di là delle strumentalizzazioni e delle vicende elettorali, è che sono passati due anni dal terremoto, il Comune di Rieti ha a disposizione circa 30 milioni di euro, ma è l'unico capoluogo di provincia del cratere che ha deciso di delegare la Regione a fare i lavori sulle scuole. Questo significa che i tempi si allungheranno moltissimo e che probabilmente da qui alla fine di questo mandato non vedremo alcun lavoro sulle nostre scuole, questa è una cosa gravissima. Ecco Petrangeli, c'è stata anche la questione della fondazione inglese, la quale ci avrebbe regalato un sacco di soldi, noi ci siamo subito posti dei dubbi, voi però avete votato in Consiglio Comunale a favore di questa cosa, non eravate certi di questa soluzione o qualche dubbio non vi è venuto anche mentre votavate? Certo, ma questa è un'altra delle perle dell'amministrazione Cicchetti, Cicchetti ha detto se non sbaglio proprio in questi studi che entro un anno ci sarà una nuova scuola a Campoloniano quindi a fine 2019 ci sarà secondo Cicchetti una nuova scuola a Campoloniano, così non sarà purtroppo per la città e per i nostri studenti. La vicenda della fondazione inglese Don Bosco è se dovesse realizzarsi quello che pensiamo, ossia che non si farà la scuola e che questa fondazione non investirà 3 milioni e mezzo di euro a Rieti, sarà la più colossale presa in giro del Consiglio Comunale e della città. Lo dico perché in Consiglio Comunale il Sindaco e l'Assessore ci avevano garantito che la fondazione avrebbe accettato la convenzione che il Comune gli avrebbe proposto, noi abbiamo in Consiglio Comunale posto dei dubbi e abbiamo chiesto di aspettare a sottoscrivere la convenzione, a proporre la convenzione al Consiglio Comunale perché abbiamo chiesto, capiamo qual è la fonte di questi soldi che la fondazione dice di voler investire a Rieti. Non c'è stato dato tempo, c'è stato chiesto però di votare una dichiarazione di intenti è evidente che se la proposta è quella di un soggetto privato che si offre di fare una donazione è evidente che il Consiglio Comunale è d'accordo però l'amministrazione avrebbe dovuto indagare prima e soprattutto adesso dovrebbe dire alla città se è vero che questa fondazione non farà più la scuola e dunque se è vero che siamo stati presi in giro, noi come consiglieri comunali e i cittadini tutti. Anche perché Cicchetti sempre nell'ultima puntata ci disse che il rifacimento della scuola o l'adeguamento della scuola, inclusa la palestra, era in un certo qual modo legato a questo finanziamento. Poi ci ha anche detto, dice se non ce li danno pazienza non abbiamo perso nulla, però si perde tempo. Sì, si perde tempo e soprattutto si prendono in giro i cittadini, sono stati fatti manifesti, sono state fatte dirette Facebook per dire che questa amministrazione era stata così brava da ottenere questo finanziamento e questa donazione. È una colossale presa in giro, la scuola non si farà, la palestra non si farà, la città di Rieti rimarrà con strutture scolastiche inadeguate e soprattutto sia il quartiere di Villaratina che il quartiere di Campoloniano non avranno le scuole che devono avere. Mi dice il quartiere di Villaratina, noi riceviamo quotidianamente molte segnalazioni dello stato di abbandono, ma ha il polso della situazione di questo? Purtroppo è così da molti anni, parliamo di un'opera pubblica che nasce se non sbaglio nel 2009, il contratto di quartiere, un'altra delle perle dell'attuale sindaco che lui in sei mesi avrebbe finito i lavori del contratto di quartiere di Villaratina. Così non è, se è possibile le cose sono peggiorate rispetto a quando c'eravamo noi e quindi se si sommano tutte queste gaffe, tutte queste inefficienze, tutte queste dimostrazioni di incapacità, ci rendiamo conto del grande e grave passo indietro che ha fatto la nostra città. Traduciamo con un voto queste gaffe a cui fa riferimento, che voto dà questa amministrazione finora. Il voto è assolutamente sotto la sufficienza, tre, tre e mezzo. Beh, tre è gravemente insufficiente. Gravemente insufficiente. Conferma che è gravemente... Soprattutto perché erano state fatte grandi promesse, se ci fosse stata più umiltà probabilmente il giudizio sarebbe più generoso, ma siccome sono state fatte tante promesse, si sarebbero risolti tutti i problemi, tutti i disoccupati di Rieti avrebbero trovato lavoro, bisogna essere in qualche modo... Però manca del tempo, lei non... Sì, sì, manca del tempo. Glielo dà come oppositore a questa giunta del tempo. Beh, c'è tempo di fare altre gaffe e di non rispettare altri impegni presi con la città, non c'è dubbio. Speriamo di no per la nostra città. Naturalmente, naturalmente. E parliamo dell'opposizione. Non le sembra che questa opposizione è un po' poco incisiva, ecco, diciamo così, e soprattutto rispetto alla sua di opposizione, qual è la migliore? Beh, volendo fare una battuta, se l'opposizione è lo specchio di chi governa, è chiaro che l'opposizione non è di ottimo livello, perché chi governa non è di ottimo livello, quindi chi ha fatto opposizione a noi era sicuramente più bravo, perché noi abbiamo alzato molto l'asticella. Al di là delle battute, le opposizioni nei consigli comunali, nei consigli regionali, anche in Parlamento, hanno pochissimi strumenti, perché ormai la politica si sintetizza nell'attività degli organi esecutivi. L'opposizione istituzionale si fa in consiglio comunale, ma l'opposizione vera si deve fare nelle piazze, nelle strade, nei luoghi di aggregazione della città. Questo è il nostro impegno, c'è tempo da qui alle prossime elezioni, naturalmente noi siamo a disposizione di tutti i cittadini che vogliono contrastare la restaurazione, che sta cercando di mettere in atto la nuova amministrazione e siamo a disposizione naturalmente anche per raccogliere tutte le critiche, ma anche le sollecitazioni, i consigli, perché abbiamo bisogno di tenere insieme tutta la città. A proposito di elezioni, le piacerebbe tornare a fare il sindaco, immagino? Ma sarebbe, interesserebbe bello potersi prendere una rivincita, quindi è evidente che ci penso, però siccome credo che i destini personali siano secondari rispetto ai destini collettivi, l'obiettivo è quello di dare di nuovo un governo democratico e progressista a questa città e quindi pur di vincere sono disposto a fare qualsiasi cosa, quindi sono disposto a ricandidarmi al sindaco ma anche a dare una mano. A proposito sempre di elezioni, lei è stato candidato alle elezioni regionali, ha avuto un ottimo risultato, ma non è un po' arrabbiato con Zingaretti che non ha riconosciuto a lei personalmente, ma anche a Rieti. A Rieti ha un consigliere regionale, ha un assessore che è espressione di questo territorio, io sono contento e orgoglioso di aver contribuito in maniera determinante alla vittoria della coalizione di Nicola Zingaretti in questa provincia. credo che il lavoro che sta facendo il Presidente della Regione sia un ottimo lavoro per tutta la Regione e anche per la nostra provincia, l'obiettivo è quello di fare sempre meglio e quindi noi siamo a disposizione affinché l'attività della Regione sia ancora più utile alle nostre comunità. Zingaretti potrebbe diventare nelle prossime settimane, come si vocifera, il segretario del Partito Democratico, come la vede questa cosa? Sarebbe una ottima novità, credo che Nicola Zingaretti e il movimento che sta emergendo intorno a lui siano una speranza per il rilancio di tutto il centro-sinistra e di tutto il campo largo delle forze democratiche e progressiste. Però, come spesso dice il Presidente della Regione, bisogna passare dall'egocrazia alla partecipazione, quindi non è sufficiente l'uomo solo al comando, non è sufficiente un leader seppur autorevole e bravo come Nicola Zingaretti, c'è bisogno di ricostruire un popolo, c'è bisogno di ricostruire un tessuto connettivo che metta insieme tutti i gangli della società, bisogna ricostruire una comunità e io penso che Nicola Zingaretti sia la persona giusta in questo momento per realizzare questo sogno, ossia quello di ricostruire il Paese a partire da una forza politica plurale, larga, che possa tenere dentro tutte le anime della sinistra, del centro-sinistra e delle forze democratiche e progressiste. È un'ipotesi concreta che, qualora glielo chiedesse lui personalmente, che lei entri nel Partito Democratico? Io credo che queste in questo momento siano considerazioni premature, io lavorerò affinché Nicola Zingaretti possa vincere le elezioni primarie del 3 marzo, perché il 3 marzo saranno elezioni primarie aperte a tutti e quindi credo che una vittoria di Zingaretti possa aprire una stagione nuova nella politica del nostro Paese. Non lo esclude quindi? Non lo escludo così come non escludo che il Partito Democratico cambi natura, cambi forma e cambi anche modo di concepire la politica, perché credo che il messaggio che sta dando Zingaretti è un messaggio di unità ma anche di discontinuità rispetto al passato e di questo abbiamo bisogno. Ha altre gaffe da dirci dell'amministrazione oppure sono finite? Ma francamente ho perso il conto, quindi è difficile adesso elencarle una per una. Aspettiamo la prossima, che penso non ci sarà molto da aspettare. Quale potrebbe essere? Ce ne sono tante. Bene, bene. Ovviamente diamo spazio noi a tutte le visioni politiche qui alla Rana nel Pozzo senza nessun tipo di problema. Lei è stato uno, diciamo, tra i più buttati giù nel Pozzo del nostro gioco. Infatti sto cercando di uscirne da questo Pozzo, spero piano piano con il nuovo anno di trovare qualcuno che mi abbia uscire. Le do una possibilità, come l'abbiamo data agli altri, di vendicarsi qualora ce ne fosse bisogno. Quindi facciamo questo gioco del Pozzo. Chi butta giù tra Sinibaldi o Cicchetti ad esempio? Beh, io ci dovrei pensare. Forse butto giù Sinibaldi, perché anche per le cose che abbiamo detto, Cicchetti con tutti gli errori che sta facendo ci si sta buttando da solo nel Pozzo, quindi butto Sinibaldi. Quindi di fatto tutte e due nel Pozzo. Beh, mi faranno compagnia, visto che io sono stato buttato spesso. Angelucci o Mezzetti? Chi buttiamo giù? Allora, siccome, se non ricordo male, Mezzetti nel confronto con l'amico Vincenzo Di Fazio mi ha buttato nel Pozzo. Sì, sì, confermo la butta giù. Non posso che buttare Mezzetti, anche perché Angelucci spesso con le sue battute in Consiglio comunale ci rende le sedute piacevoli. Bene. L'ultima di calcio, lei è tifoso della Roma, se non ricordo male. Chi butta giù tra Righetti o Totti? Spieghiamo chi è Righetti perché forse lo conosciamo un po'. Non credo ci sia bisogno di ricordarlo. Questo è quello che pensa lei, però diciamo Ubaldo Righetti era un giocatore, un difensore della Roma degli anni... Ha giocato anche il nazionale, il nazionale del 21. Questa però è una domanda alla quale purtroppo non posso rispondere, signor direttore, e quindi le chiedo di essere... Una deroga. Una deroga, assolutamente sì. Mi butterei io nel Pozzo pur di non buttare né Francesco Totti né Ubaldo Righetti. Ma come mai questa passione per questo giocatore? Ubaldo Righetti, io quando ero piccolo giocavo come penso il 99% dei bambini del nostro paese a calcio, giocavo in difesa e in quegli anni c'era Ubaldo Righetti che furoreggiava nella difesa della Roma e quindi io spesso lo guardavo con ammirazione. La ricordo, la ricordo. E poi l'ho conosciuto perché adesso fa il commentatore televisivo, l'ho conosciuto allo stadio Centro Italia perché lui è venuto diverse volte a seguire la Nazionale del 21 e quindi è stata una piacevole occasione. La ricordo, ha qualche ricordo di lei calciatore e anche qualche partita di beneficenza? Come no, più di una, più di una. E è stato giusto lasciar perdere il calcio per... Per dedicarmi ad altro. Speriamo con risultati migliori. Bene, bene. L'ultima domanda, spero che sia stato bene. Allora, l'ultima domanda che facciamo sempre a tutti è se lei si è mai sentito una rana nel pozzo. Beh, siccome la rana del pozzo è un po' una persona che ha delle visioni un po' ristrette, che soffre un po' di isolamento, io penso che tutti i reatini si siano sentiti almeno una volta una rana nel pozzo e quindi credo che l'obiettivo della politica, visto che oggi abbiamo parlato di politica, sia quello di far uscire questa città dal pozzo, perché è un po' rieti la rana nel pozzo e quindi credo che sia giusto lavorare affinché si possano aprire degli orizzonti nuovi e si possa superare quel latavico isolamento che purtroppo spesso ha caratterizzato il destino e la storia della nostra comunità. Ecco, ci lega anche il fatto che siamo coetanei, ma di questo... Beh, io molto più giovane, però la generazione è la stessa. Se li porta meglio di me, sì, sì, sì. Quello che volevo dirle è che questa cosa che ha detto la sentiamo da quando eravamo bambini e anche dai nostri padri. E la sentiremo anche quando saremo più anziani. Esatto, forse la sentiremo ancora. C'è una ricetta, secondo lei, per far uscire i riedi dal pozzo, come ha detto lei, usando questa metafora? Beh, una ricetta... Cioè, esiste una cosa concreta? Beh, secondo me... Mi scusi, ma c'è la volontà? Allora, secondo me in passato non c'è stata questa volontà e questa mancanza di volontà era giustificata dalla circostanza che comunque questa zona era una delle zone più ricche del nostro paese. La direttrice Contigliano-Riedi-Città-Dugale era una delle direttrici più ricche dal punto di vista del PIL e del benessere. E quindi si è pensato che si dovesse mantenere questo benessere coltivando un dorato isolamento. Da diversi anni, purtroppo, non è più così e noi ci confrontiamo con la necessità di riorganizzare il futuro di questo territorio ma per farlo, secondo me, bisogna soprattutto fare una cosa ossia bloccare e contrastare un esodo che purtroppo ogni anno, ogni mese costringe centinaia di giovani della nostra città a lasciare questa città o per motivi di lavoro o per motivi di studio. Io penso che quella sia la chiave di volta fare in modo che i nostri giovani possano rimanere nella nostra città perché senza i giovani non è possibile nessun movimento di cambiamento e di trasformazione. Indubbiamente è così. Grazie Petrangeli per la chiacchierata. La rana nel pozzo. Giovedì prossimo vi do appuntamento. Un saluto ad Ilenia. Giovedì prossimo vi do appuntamento. Grazie per la visione!